Il Dipartimento di Scienze della Formazione è situato nel cuore di Genova, nel palazzo Exeridania, uno storico edificio di pregevole valore architettonico accanto al Parco Cittadino dell'Acquasola e al Ponte Monumentale di Via 20 Settembre. La sede di Genova ospita la maggior parte dei corsi di studi presenti nell'offerta formativa del DISFOR, ma il Dipartimento coordina e partecipa in corsi di laurea anche presso il Campus di Savona e il Campus di Imperia. Presso il Campus Universitario di Savona, il DISFOR coordina il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Il corso intende fornire competenze per svolgere compiti nell'industria culturale e nel settore dei consumi, abilità di comunicazione e relazioni pubbliche, competenze per attività redazionali e giornalistiche, conoscenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli insegnamenti si articolano su discipline sociali e mediologiche, discipline semiotiche, linguistiche e informatiche, discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche, metodologie, analisi e tecniche dell'informazione, discipline informatiche e telematiche, scienze umane ed economico-sociali, discipline di progettazione e design dell'informazione. Fra gli sbocchi professionali del laureato in Scienze della Comunicazione possiamo menzionare l'operatore della comunicazione presso enti pubblici e privati, agenzie di pubblicità, consulenza e marketing. Si formano figure esperte in progettazione e messa in atto di campagne di informazione, sondaggi, attività redazionali presso giornali, riviste, radio, tv, ecc. Si formano consulenti di immagine, pubbliche relazioni, progettisti e gestori della comunicazione culturale con i nuovi media, progettisti di contenuti per la comunicazione in rete. Il corso di laurea triennale è collegato con la laurea magistrale in Digital Humanities, comunicazione e nuovi media. anche essa attiva presso il campus di Savona. Il corso ha l'obiettivo di formare figure professionali che possano ricoprire il ruolo di esperti in comunicazione e nuovi media, ad esempio come progettista e realizzatore di contenuti per la comunicazione in rete, content manager, social media manager, content curator. Addetto alla comunicazione di enti, istituzioni e imprese, anche con riferimento ai beni culturali e all'industria creativa. Progettista e gestore della comunicazione culturale con i nuovi media, nuove interfacce in realtà aumentata e nuove tecniche di comunicazione non verbale e espressiva, emozionale e sociale. Progettista e gestore di contenuti, di sistemi e di applicazioni per le arti performative, per l'inclusione sociale, per terapia e riabilitazione. Ricordiamo inoltre il laboratorio audiovisivi Buster Keaton, che forma i nostri studenti alle tecniche di ripresa video e alle basi del montaggio audio-video. Il laboratorio mette a disposizione degli studenti del corso di scienze della comunicazione strumenti e competenze per conoscere l'audiovisivo pratico, acquisire capacità professionali e realizzare prodotti audiovisivi attraverso percorsi guidati di gruppo e individuali, e promuovendo lo sviluppo di progetti come il documentario sociale, di inchiesta e creativo. Il laboratorio ha anche attivato un canale YouTube dedicato, dove si possono trovare le produzioni degli studenti a partire dal 2006. Proseguendo con i corsi triennali, abbiamo il corso di laurea in scienze del turismo, impresa, cultura e territorio, coordinato dal Dipartimento di Economia insieme ad altri dipartimenti dell'Ateneo di Genova, fra cui il Disfor. Il corso si caratterizza per un forte valore professionalizzante e per un rapporto diretto con il mercato del lavoro del settore turistico, che avverte sempre più la necessità di disporre di operatori qualificati. In particolare, scienze del turismo intende formare specifiche figure professionali che abbiano acquisito conoscenze teoriche e competenze operative fondamentali nei settori del turismo e delle attività culturali, nella promozione dei territori e nelle attività imprenditoriali connesse. Nel percorso di studi sono previsti due curricola. Uno, economia e management turistico. Due, valorizzazione e promozione delle risorse storiche, artistiche e ambientali. Si studiano discipline in ambito giuridico, economico e aziendale, socio-psico-antropologico, storico-artistico-archeologico-letterario-musicale. La laurea magistrale collegata, ospitata presso il campus di Savona, è valorizzazione dei territori e turismi sostenibili. Essa si caratterizza come un percorso di studi originale e innovativo, che ha come obiettivo la valorizzazione del legame tra turismo e territorio, intrecciando dimensioni globali e locali, e privilegiando un approccio ecologico e interdisciplinare, dove la progettazione, la promozione, la comunicazione e la gestione apicali della valorizzazione dei territori e dei sistemi turistici sostenibili sono aspetti tra loro strettamente interconnessi e integrati. Il laureato in scienze del turismo può ricoprire ruoli di carattere operativo e o direttivo nelle funzioni amministrativa, operativa e commerciale di aziende del settore turistico, oppure nelle funzioni legate alla progettazione, organizzazione e promozione di prodotti e servizi turistici. All'indirizzo www.unige.disfor.it potrete trovare tutte le informazioni utili circa i vari corsi di laurea, un approfondimento sulle discipline insegnate, i servizi di orientamento offerti tutto il corso dell'anno dal Dipartimento.